Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Morgana e benvenuti in questo video di Cartomanzia dove andremo a rispondere alla domanda Lui, lei aprirà gli occhi e capirà? Questo è un video per un commento che ho letto però fondamentalmente è un video per tutte le persone che hanno in mano una situazione dove c'è da capire un qualcosa, c'è da capire come comportarsi e se il nostro, diciamo, il lui o la lei che si trova in questa situazione aprirà gli occhi e capirà che cosa si trova davanti, chi si trova davanti Adesso andremo a mescolare le nostre carte Andiamo a mescolare le nostre carte Concentratevi sulla domanda Lui, lei aprirà gli occhi e capirà? Concentratevi sulla persona per cui chiedete questo consulto Andremo a fare tre varianti Con tre carte delle carte del mistero Spostiamo i segnalini Uno, due, tre Uno, due, tre Benissimo Adesso andiamo a prendere le carte d'amore Che non rispondono solo all'amore Benissimo Lui, lei aprirà gli occhi e capirà? Pensate la persona per cui avete chiesto il consulto Vi ricordo sempre che il video è valido sempre Per le persone che lo stanno guardando in questo momento Ma anche per chi lo vedrà fra una settimana Lo vedrà fra un mese Lo vedrà fra un anno Quando il destino deciderà Che è giunto il momento che voi cliccate sul mio video Sarà il momento in cui voi dovrete ascoltare il risponso delle carte Vi ricordo sempre che i miei video sono sempre a scopo ludico Intrattenitivo E qualsiasi decisione prendiate Sarà sempre una vostra responsabilità Andiamo a prendere due carte da questo mazzo Uno, due e tre Uno, due e tre Benissimo E adesso la mia amata carta siciliana Lui, lei aprirà gli occhi e capirà Benissimo Adesso Scusate Andiamo a mettere i segnalini I segnalini non predispongono la risposta Sono semplicemente per darvi un'indicazione Su che mazzo scegliere Adesso potete scegliere in base a come io ho messo le carte Potete scegliere in base al segnalino che vi fa più simpatia Potete scegliere in base al mazzetto O intuitivamente quello che vi ispira di più Potete anche mettere in pausa il video e scegliere comodamente Bene Andiamo a leggere la prima variante Che è la variante per chi ha scelto Il segnalino con l'emoji che ride sorpreso Lo metto qua per farvelo vedere sempre Penso che lo vediate Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte Se il nostro lui o la nostra rei aprirà gli occhi su questa situazione Ecco che Il pensiero di questa persona Il pensiero che ha Quest'uomo Quest'uomo abbastanza facoltoso Ecco E come se lui Stesse già cominciando a pensare A come riuscire a sistemare La situazione che ha per le mani Perché diciamo E' una persona Non è una persona stupida E' una persona abbastanza colta E' una persona abbastanza Non piccolina Cioè non piccola di età Io mi riferisco sempre A un uomo O a una donna In base alla vostra situazione E posso dire che La risposta A ciò che voi avete chiesto E' molto semplice Ecco Ecco perché è uscito il bambino Il bambino in questo caso Significa che La soluzione Di questo gran signore Al pensiero Di questa situazione A cui deve dare Un senso Per cui deve aprire gli occhi E' una Una situazione Molto semplice Da sbrigare Ecco Non ha tutte queste Complicazioni Come si pensava E' una situazione Molto facile Da gestire E penso proprio Che Lui Riuscirà a gestirla In modo Molto semplice E anche molto sbrigativa Devo dire Ecco qua infatti Che esce Il messaggio In questo caso Abbiamo il messaggio Che arriva Di una proposta Di affari Ecco Posso pensare Che magari Si tratti Di una questione Lavorativa In questo caso Però Anche se non si dovesse Trattare di una questione Lavorativa Di una questione Affettiva Io posso dire Che La situazione Che si verrà Ad evolvere Nella Nella vostra Domanda E' una situazione Che avrà Un Come si dice Un Una spiegazione Molto ma molto Semplice Ecco E sarà una Spiegazione Positiva Cioè Questa persona Riuscirà Ad aprire Gli occhi E realmente A capire Cosa sta Cosa le sta Passando Per le mani E devo dire Che sarà Anche molto Pratico Nel gestire La situazione Ecco In poche parole Io vi posso fare Un esempio Che ad esempio La persona Ad esempio Non va più D'accordo Col Col partner Gli dice Guarda Io ho capito Che noi Non possiamo Stare più Insieme Perciò Decidiamo Di comune Accordo Ognuno Per la sua Strada Oppure In una Questione Lavorativa Ecco Non so Si va dal capo E si dice Guardi Capo Io so Che sto Facendo Un lavoro Abbastanza Importante E vorrei Una gratifica Ecco Queste Proprio Le situazioni Molto brevi Molto Molto Spartane Ecco Chiamiamole Così Ecco Che Questa situazione Che si è venuta A creare Di questa Indecisione Di tutti questi Problemi Che si sono venuti A creare Si sono venuti A creare Per le Male lingue Ci sono state Delle persone Che hanno Parlato Un po' Troppo Di questi Personaggi Di questa Situazione Che hanno Portato Ad Avere Questa Situazione Complicata Che però Si svolgerà In Si Scioglierà In breve Tempo E molto Facilmente Questo È Il primo La prima Variante Questa La mettiamo Da parte Adesso Andiamo A leggere La seconda Variante Quella Per chi Ha scelto L'emoji Con la Smorfietta Ecco Che qui Abbiamo Una situazione Un pochino Diversa Perché qui Abbiamo Un personaggio Che sembra Fondamentalmente Qua abbiamo A che fare Con O Un Un uomo Di chiesa Oppure Abbiamo A che fare Con un uomo Di legge Quest'uomo Di legge O quest'uomo Di chiesa Che è Fondamentalmente Preannuncia Fortuna Consolazione Che fa Sognare Ad occhi aperti Vedete La persona Qui Che sogna Ad occhi aperti Invece Questa persona Fondamentalmente È un mercante È un truffatore Non è la persona Che si Palesa Ecco È una persona Che ha Un abito Che fondamentalmente Non raffigura Colui Che c'è dentro Perché colui Che c'è dentro Diciamo E vende Fischi Per fiaschi In poche parole E se io Devo dire Se aprirà Gli occhi Oppure no Adesso ce lo diranno Queste altre carte Ed ecco Che Si Si riprospetta Sembra che le carte Lo sappiano Quello che devono dire Ecco Si riprospetta Il nemico La spia Quello che vi avevo Pronosticato Nella Nella stesura Delle prime tre carte Nel senso che Questa persona Che si manifesta Come un amico Si manifesta Come un qualcuno Che vi vuole aiutare Che vi fa sognare Ad occhi aperti Stiamo attenti Ragazzi E ragazze Perché qua Si sta parlando Sia di un uomo Che di una Persona di genere Femminile Si sta parlando Io parlo Certe volte Al maschile Per come mi escono Le carte Ma poi è logico Che la stesura È valida Sia per lui Che per lei Ecco Questo siete voi Questa siete voi Che siete in mano A una persona Che fondamentalmente Vi sta facendo Sognare Ma alla Alla Come si dice Nel concreto Questa persona Non vi darà niente Non vi darà niente Perché sarà Una persona Vuota Completamente Vuota Vi farà vedere Che vi farà Castellina Castellinaria Fondamentalmente Tutto quello Che questa persona Vi dirà In fondo In fondo Non si realizzerà Andiamo a vedere Cosa dice la siciliana Ecco che Nel vostro futuro Ci può essere Una persona Migliore Una persona Realmente Di buon cuore Una persona Realmente Affidabile Realmente Vera Che tutto quello Che vi dirà Sarà realmente La realtà Dei fatti Perché poi Siamo tutti bravi A parlare Ma se poi I fatti Non corrispondono Alle parole Ecco che siamo Soltanto Dei ciarlatani Spero che queste carte Vi aiutino Vi chiariscano Più che altro E adesso Andiamo a vedere La variante Per le emoji Che ride con le lacrime Sempre all'addominio Se lui Lei Aprirà gli occhi E capirà Oh mamma mia Mamma mia Quando escono queste carte A me prende proprio Lo scoraggiamento Perché qua Parliamo sempre Di persone Di persone Che si mettono In mezzo Alle brave Ragazze Ai bravi ragazzi Questi finti amici Vedete Questi finti amici Questi finti amici Che si mettono in mezzo Per gelosia E portano un tormento Portano una crisi Ma anche loro Fondamentalmente Sono tormentati E in crisi Perché chi vive Una vita In modo tranquillo E sereno Non si mette A guardare Quello che sta facendo L'amica O quello che sta facendo L'amico Di fondo Sono persone Insoddisfatte E queste persone Insoddisfatte Non vogliono altro Che trasmettere La loro Insoddisfazione A persone Che magari Vivono la vita In modo più tranquillo Più sereno Ed ecco che c'è sempre Di mezzo La gelosia L'invidia Tutta questa roba qua Ecco che la persona Che ha chiesto Questo consulto Deve fare Attenzione Nel senso che Non guardare Disgrazie Queste cose qua Perché non c'è Niente del genere Però io posso dire Che la persona Per cui è stato Chiesto Questo consulto Se questo Lui o questa Lei aprirà gli occhi E capirà No Non aprirà gli occhi E non capirà Perché non Non riesce Ad andare Oltre le parole Che gli vengono dette Che le vengono dette Non riesce A ragionare Con la propria testa Non riesce A vedere Realmente I fatti Che non Corrispondono Le parole Che gli vengono Raccontate E perciò Continuerà In questa Situazione Di oblio Perché di fondo Questa persona È un bambino È ingenua E quando le persone Sono talmente ingenue Si fanno Abbindolare Da tutte queste Chiacchiere Che vengono fatte A discapito Di una situazione Che potrebbe essere Molto più Leggera Ed ecco qui Che c'è Una donna Infatti Ho detto Che questo Consulto È dedicato Sia a un uomo Sia a una donna E purtroppo Penso proprio Che questa persona Non riuscirà Ad aprire gli occhi Perché Ci sono troppe persone In mezzo Troppa gelosia E troppa invidia Spero di Essere stata utile A questa persona Che mi ha lasciato Questo commento E a tutte le altre persone Che hanno visto Questo video In questo momento Con questo Io vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo Consulto Ciao